Ciao, oggi voglio parlarti di un argomento importante, che è quello dell'amore per se stessi. Tante volte noi ci rivolgiamo alle persone che ci circondano, lamentando che non siamo amati come vorremmo essere. Ma prima dovremmo chiederci, noi, per primi, ci amiamo veramente? Anche perché l'amore per noi stessi è la base, perché se noi non amiamo noi stessi in modo corretto, non ci accettiamo per quello che siamo, non possiamo pretendere di essere amati bene e correttamente dalle altre persone. In fondo, l'ambiente che ci circonda rispecchia quello che è la nostra condizione mentale, quello che sono le nostre credenze, le nostre convinzioni più profonde. Anche se, consciamente, magari pensiamo di essere a posto e di volerci bene, se l'ambiente che ci circonda non ci dimostra, non ci regala l'amore che vorremmo avere, perché probabilmente, nell'intimo più profondo, noi non ci amiamo, non ci apprezziamo veramente per come siamo. Ecco che è veramente fondamentale partire da una corretta accettazione di noi stessi. Io ti posso consigliare un metodo semplice, importante, a partire da ora per iniziare a migliorare quelle che sono le tue credenze, le tue convinzioni, per migliorare quello che è il tuo atteggiamento verso te stesso e verso la vita. Prova a prendere un post-it, anzi prendine sette. Su ognuno di questi sette post-it scrivi la frase Io mi approvo e mi amo. Scrivere Io mi approvo è molto più importante di scrivere Io mi accetto, perché tante volte noi possiamo accettare un qualcosa, perché siamo costretti ad accettarlo, magari non approvarlo proprio in toto, no? Lo facciamo magari perché noi abbiamo delle cose che dobbiamo per forza accettare, dei compromessi da raggiungere. Ma dire Io mi approvo vuol dire accettarsi completamente così come si è, amarsi completamente così come si è. Bene, scrivi questa frase, come ti ho detto, Io mi approvo e mi amo. Su sette post-it. Metti questi sette post-it in sette luoghi differenti della tua casa, che siano il monitor del computer, l'auto, l'ufficio, il bagno, la camera da letto. Spargili e ogni giorno leggili e ripeti più volte al giorno questa frase come se fosse un mantra. Fai tutto questo per almeno 21 giorni e vedrai che attorno a te, piano piano, anche se ti sembra impossibile, inizialmente qualcosa inizierà a muoversi ovviamente verso una direzione positiva. Bene, spero di esserti stato utile in questo breve video. Mi raccomando, buona rivoluzione umana, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!